Questa è una poesia di Paola Muglia, scritta con un stocco interno di un pseudonimo di Mario Bacioglia, filmato di Piena in Colombia, e dice Le penne che non scrivono sono anime interrotte, sovraffatte, multe pagine secrete, come antiche pietre dell'uomo servano il decognito mistero. Affiotti il sangue scopre al posto dell'inchiostro e smaschera l'inganno di ritrosse la tua vita. Al palmo di tua madre, allo sguardo di tuo padre, le penne che non scrivono sanno fare un gran rumore quando accettano la sorte di un Cristo salvatore. Freia San Grazie. Grazie.